Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale e oggi vi presentiamo un bellissimo romanzo storico appena pubblicato da Rossini Editore che si intitola Il mistero delle spille longobarde di Marcella Nardi che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questo mistero. Prego Marcella a te. Ciao ciao Maurizio ciao a tutti da Seattle quindi sono l'altro capo del mondo da voi e sera da me sono le 11 e 36 di mattina di martedì. Allora questo romanzo è un romanzo storico un po' diverso come diciamo un momento storico rispetto a quello quando ci siamo io e te sentiti un annetto fa circa con la maledizione di Bashar era. Allora questo romanzo vi faccio rivedere la copertina Il mistero delle Spire Longobarde innanzitutto è un romanzo di genere giallo storico young adult che ormai va molto di moda questo termine perché è un giallo per ragazzi che però va anche bene anche per gli adulti. Allora i gialli e misteri per ragazzi hanno in generale una la vera differenza rispetto a quello per gli adulti e che eh non ci sono scene truculente eh anche quando noi intuiamo si intuiscono delle situazioni di criticità sono però gestite in maniera più soft eh poi ci sono molte situazioni goliardiche e eh in tutta diciamo i romanzi per ragazzi eh c'è interviene molto spesso la fortuna e molte situazioni sono gestite in maniera goliardica. Allora perché il mistero delle delle spile Longobarde? Ovviamente non posso svela tutto ma ehm come sai io sono una grande partita della storia antica soprattutto di tutto l'arco della storia medievale però amo anche i gialli il mistero e come lettrice anche mi piace azione avventura e e allora eh tantissimi anni fa io avevo sentito di una leggenda ehm per quanto riguarda il periodo Longobardo sappiamo tutti che è un periodo stupendo cioè stupendo probabilmente chi ha vissuto in quell'epoca eh la gente comune si è vista questi invasori forse tanto stupendo non lo è stato non lo so però eh diciamo per noi moderni è un periodo che ha rappresentato una svolta nella storia della nostra penisola e tra le varie cose i Longobardi sono stati famosi anche per la orificeria e insieme ad altre eh diciamo popolazioni come gli sciiti gli sciizie che avevano un'orificeria molto bella gli i Longobardi erano famosissimi anche allora per la loro orificeria allora una delle varie ehm leggende è quella delle dieci grandi fibule Longobarde eh di cui comunque anche come leggende se ne parla pochissimo eh probabilmente perché gli storici reputano proprio che sia proprio una leggenda di quelle senza quasi nessun fondamento storico niente però questa leggenda parla della regina Teodolinda che ehm sappiamo che da una parte eh cercò di ehm unire ehm tutta la il suo popolo radicato in Italia farlo unire con la chiesa di Roma anche se c'erano stati una serie di tipo scismi o comunque degli allontanamenti eh allora pare secondo la leggenda che Teodolinda avesse intrapreso un viaggio verso Roma con uno scrigno con dieci grandi bellissime fibule eh tutti storiate con pietre preziose quindi alta orificeria la leggenda narra che però questa eh questo scrigno non si è mai arrivato a Roma e quindi non si sa è mai esistito non è mai esistito allora io che cosa ho fatto in questo romanzo? Il romanzo di per sé è un romanzo che eh si svolge ai tempi attuali con due giovani studenti universitari che sono appassionati di indagini ma anche di storia e e quindi eh il romanzo comincia che i due giovani al ritorno da una loro vacanza all'aeroporto di Roma vengono a intercettati da uno strano signore eh e di qui nasce eh il tutta la storia eh di questi due ragazzi che ehm da questi vengono fermati e viene fatta una richiesta di eh come dire ehm aiutarli a aiutare questo signore perché ehm c'è stato un rapimento un rapimento di persona di uno storico famoso uno dei tanti storici della Università della Sapienza di Roma eh molto appassionati di eh storia Longobarda eh però diciamo eh una cosa che io ho voluto anche fare è che se noi andiamo a vedere più o meno le occupazioni di Longobardi in Italia di fatto Roma viene quasi mai citata in effetti è vero che Longobardi sono scesi anche nel Ducati di Benevento quindi anche più a sud però eh di Roma diciamo gli storici sono un po' hanno delle teorie controverse eh non sembra che di fatto ci sia stato proprio una grande anche se sono stati ritrovati alcune chiese dei plutei quindi questa specie di lastre in 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 storiate dove sembra che ci siano eh dei dei personaggi lungobardi allora io ho voluto creare eh tutta una serie di di situazioni in cui secondo nella mia mente la leggenda probabilmente questo scrigno potrebbe essere ehm stato sepolto eh nella valle del Treia che è una una vallata una zona fuori Roma famosa per le leggende ci sono tante leggende storiche che eh si articolano in questa in questa valle e e quindi c'è ehm ho studiato per questo romanzo anche tante altre cose che non sapevo sui Longobardi ehm quindi diciamo ehm lo faccio finire bene il romanzo eh ma ovviamente non posso dire troppe troppe cose insomma ehm e poi eh già già come è nata è carina l'idea no quindi è particolare eh sì è giallo che è storico ma nello stesso tempo è di attualità sì quindi è per ragazzi ma lo possono leggere anche gli adulti anche gli adulti non ti sei fatta mancare niente no e tra l'altro nel romanzo qua e là do spunti di storia per esempio c'è un pezzo dove si parla per dei motivi particolari ehm dove si parla che la famosa via della seta che tutti pensano più al periodo da Marco Polo in in avanti ma in realtà anche gli antichi romani eh conoscevano già la via della seta e eh esportavano e importavano prodotti anche tessuti anche tessuti eh e quindi diciamo molto spesso mi sono divertita nel romanzo a dare spunti di storia eh non solo Longobarda ma anche di altre cose eh in maniera tale proprio perché essendo giallo per ragazzi è bello secondo me avvicinare i ragazzi alla storia in maniera divertente certo assolutamente quindi bisogna ricordare il titolo perché vadano a comprarlo che è il mistero delle spille Longobarde edito pubblicato da Rossini editore di Marcella Mardi che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite e che io ringrazio tantissimo per questa opportunità grazie ho già in mente un altro romanzo storico dico non vi dico niente ma c'è già un'altra idea quindi ci rivedremo ok allora invece a tutti voi ricordo di continuare a subirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le videopresentazioni compresa questa realizzate fino ad oggi grazie ancora e a presto grazie grazie a tutti la SIAATOL ciao 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 ciao